radio garden presenta una trasmissione terra terra per far crescere la vostra voglia di verde in casa sul terrazzo e in giardino ovunque voi siate con luca caprotti parliamo di come avere un terrazzo un giardino colorato anche d'inverno con bacche e altre varietà questo programma è sponsorizzato da compo prodotti di qualità per la cura delle piante per chi ha lobby del giardinaggio autunno inverno sono due stagioni in cui natura si riposa si riposa per la primavera e l'estate in cui fioriranno sbocceranno e si colorerà tuttavia ci sono dei modi per avere dei terrazzi dei giardini colorati profumati gradevoli piacevoli anche alla vista in queste due stagioni invernali ne parliamo con caprotti sì buongiorno allora sì sicuramente come dicevi tu autunno e inverno sono fasi in cui la stagione o si prepara o nella stagione in cui praticamente è ferme quindi dorme ci sono comunque delle possibilità per avere un bel giardino anche in inverno perché noi quando pensiamo al giardino pensiamo solo ed unicamente per esempio alle fioriture o comunque alle forme delle foglie ci sono anche altri parametri da tenere in conto per esempio parlando degli alberi questo ovviamente per chi ha i giardini l'autunno è una delle fasi più belle perché molti molti alberi non hanno fiori che noi possiamo apprezzare o visibili viceversa nel periodo autunnale le foglie hanno dei colori meravigliosi quindi possiamo scegliere tutta una serie di alberi che durante il periodo autunnale abbiano queste colorazioni pensate al liquidamba agli aceri le querce c'è la giapponesa un colore stupendo certo ce ne sono tantissimi adesso poi è ovvio che questo va pensato ovviamente in fase di progettazione quale tipologia di albero perché stiamo parlando di alberature ma pensate anche al ginkgo biloba che ha una forma della foglia fatta a ventaglie bellissime in autunno diventa di un giallo dorato che è meraviglioso quindi già quello si può giocare in più si possono giocare su molti arbusti che magari non sono particolarmente belli per la fioritura ma che producono bacche e questi possono essere arbusti tanto da giardino quanto arbusti in realtà o piccoli cespuglietti che noi possiamo tenerci anche su un balcone facci nome Luca sia per il terrazzo per esempio in balcone terrazzo ci sono le schimmie la schimmia japonica fa delle foglie di un bel verde carico dentellate con poi dei fiorellini che sono bianchi non dicono tant'è ma si trasformano poi per esempio delle belle bacche rosse lo stesso agrifoglio per esempio è uno dei classici del natale per esempio però anche lui è molto bello nelle versioni variegate oltretutto veramente ha un suo perché piuttosto che la pernietta che sono delle piccolissime venticelle che possiamo tenerci davvero anche sul balcone anche lì vanno sui colori ma pensiamo anche alcune piante in realtà abbastanza vituperate ma che in realtà sono carine come l'edera di edera oramai ne esistono tante tipologie come fogliame l'edera non perde mai le foglie quindi in inverno in realtà rimane lì ci può fare da quinta scenografica nella stagione leggermente prima in autunno qui per chi è un pochino più attento anche agli insetti è uno degli ultimi raccolti importanti per le api quindi ci possiamo godere un giardino per esempio abitato dagli insetti perché le api vengono non abbiate paura perché l'ape non vi punge in realtà se voi non la disturbate se vai diretta all'albero o alla pianta voi non siete di nessun interesse per l'ape oppure ci sono tante altre cose come la piracanta per esempio di solito tutti la conoscono per la siepe una terribile siepe da difesa perché fa delle spinacce e delle massicce i giardinieri non la conoscono e la temono però in realtà fa delle bellissime bacche e anche in questo caso per esempio di inverno sono un nutrimento per tantissimi merli quindi per esempio anche qui possiamo addirittura giocare sul board gardening attirare gli uccelli aveva un giardino vivo perché è vero che il giardino in sé per sé è spoglio ma la natura non si limita al giardino quindi possiamo attirare tutta una serie di animali ci sono per esempio anche il sempre appunto tutte le varie sempreverdi abbiamo comunque anche le veroniche sempre devo usare per esempio su terrazze e giardini la veronica evela veronica addenda anche loro fioriscono in questi periodi diciamo del tardo inverno piuttosto che il calicanto il calicanto è una pianta che durante l'estate vi può dire molto poco è il calicanto d'inverno ma in realtà nella fine dell'inverno a gennaio fa dei bellissimi fiori gialli profumatissimi di un profumo molto intenso e quindi è un'ottima pianta che magari si non la si mette in primo diciamo in primo piano la si mette magari in un angolo un po' del giardino perché fiorisce senza ancora avere le foglie però il suo profumo già per esempio vi dà un profumo d'inverno che non è una cosa facile da avere pensate anche al gelsomino d'inverno iosminolidonodiflorum anche lui fa tutta l'estate fiorita poi perde tutte le sfoglie scusate con le foglie perde le foglie poi diventa un'esplosione di fiori gialli ce ne sono ma si può giocare anche sulla forma oltre che delle bacche e delle foglie delle cortecce stesse molte cortecce sono molto belle da vedere tra gli alberi non è una cosa perché spesso non non ci facciamo caso in realtà ma la corteccia di un faggio è bellissima la forma stessa del che prendono le ramificazioni sia un albero che non è stato scapitozzato ma un albero che è stato tenuto nella sua forma naturale sono bellissimi anche in inverno magari con sopra la neve addirittura diventano estremamente natalizi quindi sono veramente validi come come forme e qui uno volendo si può giocare ci sono per esempio i noccioli contorti che hanno che è un normalissimo nocciolo che noi conosciamo solo che ha tutti questi rami leggermente contorti ci sono i salici per esempio dalle forme contorte mazzudana che hanno addirittura le cortecce gialle o rossastre nelle parti giovani i cornus per esempio c'è il cornus sanguini il cornus alba sono tutte varietà che bisogna sempre fare delle potature particolari per tenerli giovani perché la parte giovane addirittura sembra delle fiamme a distanza perché sono di un rosso vivace molto forte mentre invece se noi lo lasciamo invecchiare ovviamente farà un tronco più diciamo più o meno spesso dipende dalla sua età che però è color marrone classico solo le parti giovani abbiamo anche il cornus massa che è famoso per essere il corniolo anche lui fiorisce per esempio all'inizio cioè della bella stagione e quindi anche lì abbiamo questa esplosione di fiori gialli quando ancora il resto della natura sta dormendo ce ne sono tanti veramente di dobbiamo sganciarci un attimo dall'idea che il giardino sia solo primavera estate sia solo primavera estate o che in realtà sia solo fiori e foglie in realtà ripeto ci sono tutte le parti delle bacche per esempio pensate anche alle rose è vero che dipende che le rose sono un mondo perché ce ne sono infinite varietà ma molte rose hanno delle bacche dei frutti cinorroide che sono bellissimi da vedere la rosa rugosa per esempio che fa sia un bellissimo fogliame ha un bellissimo fiore fiorisce praticamente quasi a getto continuo d'inverno ha delle belle bacche la stessa rosa canina che è la varietà selvatica nostra addirittura lì uno se le può mangiare quelle bacche lì perché sono ricchissime di vitamina c e sono di un rosso acceso quando ripeto in inverno spesso abbiamo abbiamo poco come dicevi tu il colore predominante tendenzialmente è il marrone delle foglie secche della corteccia però si può puntare a quello l'ippocastano per esempio altro albero ha la corteccia squame quindi è molto particolare molto molto diversa sono tutte veramente varietà che possiamo giocare in giardino sì e forse ecco l'unica cosa è che serve un po' più di progettazione da un certo punto di vista se invece vogliamo fare delle cose un pochino più piccole sì 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 che è più la portata diciamo non tutti hanno un bosco dove piantare no certo ma basta anche su solo albero magari molto bello che apprezzi anche alle volte anche gli stessi alberi da frutto pensate magari a un melograno melograno in autunno ho anche un caco il caco è bellissimo perché perde le foglie ma ancora su tutti questi bei cachi arancioni sembra quasi un albero di natale personalmente mi fa un po' di tristezze il caco sì allora lì dipende come sicuramente ma è una questione di gusto no è una questione anche sicuramente di sensibilità non a tutti può piacere io sto dando una serie di consigli certo certo poi è molto personale ci mancherebbe però tornando invece a un discorso di fare cose più piccole le classiche aiuole per esempio con la viola e i ciclamini sono cose più alla portata di tutti sicuramente ecco il ciclamino magari va molto bene nella prima fase iniziale poi con il grande freddo ecco più una pianta da tenere in zone un pochino più riparate le viole per esempio sono sicuramente uno dei classici ma oramai ce ne sono di talmente tante tipologie da livello mammole, cornute, collocchio che veramente lì per esempio si può giocare senza nessun problema l'unica particolarità è che povera la viola normalmente noi la piantiamo verso la fine dell'autunno perché rimane fiorita nonostante poi il freddo ma la pianta in realtà è lì congelata in realtà darebbe il meglio di sé verso l'arrivo della primavera dove lì ritorna a crescere e ritorna anche a fare grandi fioriture ci sono anche tanti cavoli ornamentali non solo quelli che sicuramente hanno in mente tutti che è la classica brassica tonda ce ne sono molte dalle foglie incise si chiamano accignate che sono per esempio di molti colori anche colori abbastanza acidi un verde acido sul bianco che vengono molto usate per esempio nelle aiuole invernali in Italia ancora poco conosciute ma in generale vengono per esempio in Francia sono molto molto usate quindi ce ne sono tanti che possono essere veramente giocati in questo ruolo dove non fa neanche caldissimo anche il cardo il cardo è molto bello fa questo fogliame grigio uno se vuole se lo può anche mangiare allora lì andiamo nell'idea di fare addirittura delle aiuole miste diciamo tra molte tipologie anche di ortaggia che è una cosa che anche lì si usa tanto molti cavoli che sono colorati sono facilmente sfida nel freddo e la brina e volendo poi addirittura potrebbe dire vado in giardino, in balcone e mi colgo anche la mia verdura è un'altra cosa su cui si può giocare volendo ho capito invece sul terrazzo qualche varietà che cresca che cresca bene anche su un vaso, una fioriera si allora dal balcone sicuramente sempre parlando di bacche colorate cioè colorare l'inverno attraverso piante e bacche allora in realtà molte delle piante da sepe che ho citato piuttosto che sono tranquillamente trasportabili anche nel caso di alberi beh l'acero che dicevi tu per esempio si prestano molto bene in realtà sui terrazzi anche perché sono piante che non hanno una crescita particolarmente vigorosa sono molto lente lo stesso cornus mass il corniolo è un albero che ha una crescita molto lenta quindi per esempio sono sicuramente giocabili anche il caricato lì dipende poi sicuramente dalla grandezza del terrazzo da che tipologia di vaso noi mettiamo l'esposizione l'esposizione sì sono tante le variabili ma su queste si possono sicuramente giocare non ultime appunto anche dei sempreverdi anche se ovviamente non parliamo delle bacche delle picce e via dicendo senti potature a parte perché si aprirebbe un capitolo un'inciclopedia che tipo di manutenzione allora che tipo di manutenzione hanno bisogno queste bacche queste varietà allora dipende anche lì sicuramente ovviamente cioè un ansero giapponese praticamente non va mai toccato quindi è una è molto facile sicuramente da mantenere gli altri si tratta principalmente di contenimento soprattutto io ho citato l'edera ecco l'edera ma contenuta esatto perché se no a un certo punto evidentemente prende piede ma dipende si può anche puntare ecco non tanto sempre per il terrazzo ma volendo anche lì eh dipende solo di avere un vaso abbastanza profondo oramai fanno delle belle varietà di luppoli per esempio c'è la varietà aurea che durante la stagione estiva essendo rampicante vi può dare una copertura perché potete farla crescere anche semplicemente su una griglia per proteggersi magari da un vicino ma durante la stagione autunnale invece diventano per esempio queste foglie gialle oro molto belle arrivata la stagione estiva stagione invernale basta tagliare basta togliere tutto quindi in realtà ha una manutenzione estremamente facile le altre piante per esempio quelle da sepe dipende come teniamo perché in realtà la piracanta potrebbe essere tenuta in forma libera oppure tenuta obbligata molte rose la manutenzione praticamente in inverno non viene fatta anzi perché se noi tagliamo i cinorroidi la manutenzione può essere sposticipata alla fine dell'inverno e quindi poterci godere le bacche nel momento invernale e poi ovviamente fare le potature nel momento un pochino diciamo un pochino più in là quindi le manutenzioni non sono poi tanto più impegnative o gravose di quello che sarebbe un normale giardino poi per quanto riguarda tipo piante annuali magari lo sfiorito ecco cosa del genere non nulla di che poi anche lì questione di sensibilità molte delle graminacee possono essere comunque gradevoli anche relativamente all'inverno oppure anche la nandina la nandina domestica è una bella pianta che fa molte bacche in inverno lei non necessita praticamente di nessun tipo di manutenzione fa comunque diventa abbastanza grossa se coltivata in un vaso adatto quindi è adatta comunque anche ai terrazzi e cresce praticamente quasi da sola il corus ve l'ho detto ecco quella è l'unico forse che impegna un pochino di più perché bisogna tenerlo giovane quindi bisogna fare degli interventi di svecchiamento ma anche lì non è poi molto difficile perché basta intervenire su quei rami che sono appunto di color del legno quindi sappiamo che quello è sicuramente il ramo più vecchio si interviene su quello si pota e lo si costringe costantemente ad emettere nuovi rami che però siano giovani e quindi colorati invece durante l'estate come si comportano? perdono le bacche perdono le foglie no la maggioranza per esempio dei cornus in realtà emette le foglie durante la stagione bella fa anche dei fiori che però effettivamente non sono particolarmente belli spesso neanche tanto visibili esistono però tipo alcune varietà come il cornus elegante variegata che hanno delle foglie appunto variegate quindi hanno del bel fogliame gli altri magari sono più adatti a far da quinta quindi nel senso sempre con questo fogliame verde scuro in cui magari in una luola ben giocata abbiamo quello che ci darà il tocco di colore in inverno mentre invece magari poi durante la stagione interveniamo noi con fioriture annuali o altre piante senza nessun problema ti viene in mente qualche altra pianta a suggerirci da tenere cioè anche in casa magari? beh in casa in realtà è molto più semplice perché vabbè sono le classiche piante d'appartamento quindi su quelle in realtà ma sempre sempre con bacche ah beh allora con bacche in realtà sì la schimmia si adatta per esempio abbastanza bene a vivere anche in un ambiente chiuso però ecco io direi che tendenzialmente il discorso bacche secondo me vale molto più per l'esterno in interno in realtà cioè l'esterno magari anche un balcone ecco un balcone va benissimo in realtà nell'interno possiamo giocare su piante dai colori diversi sì esattamente minima temperatura eh sì controllata quindi è una cosa molto diversa ma fuori in realtà queste ne possiamo giocare veramente tante altre piante volendo che possano essere utilizzate allora che non siano alberi perché effettivamente sugli alberi sono un pochino più più complicati per per spazio diciamo più che altro non poi tanto non tanto per altro allora su bacche bacche in realtà tenete conto che poi vengono piano piano anche consumate ovviamente dagli insetti più che dagli insetti dagli uccelli che spesso ovviamente alla fine dell'inverno hanno poco da mangiare quindi tendono a venire su quello quindi ci sono anche tante altre piante io per esempio consiglio anche alle volte dei ligustri il ligusto è una pianta comunque da da siepe ce ne sono tanti alcuni che perdono le foglie come il nostro altri che invece rimangono anche con del bel fogliame in realtà le bacche le fanno anche loro fanno dei suoi bianchi molto profumati oppure abbiamo comunque tutta una serie di altre varietà come l'eleagno o l'olivo lo stesso olivo sono tutte piante sempre vere l'olivo peraltro è un bellissimo fogliame come colore che stacca molto soprattutto nel mese invernale l'eleagnus dipende che tipo di eleagnus cerchiamo viene chiamato falso olivo perché anche lui fa delle specie delle bacche che somigliano un pochino a delle olive e ha una foglia anche lui alcune varietà sono la foglia di sale c'è una foglia che spesso nella pagina inferiore è bianca quindi per esempio se c'è vento si muove avete questo effetto che è costantemente di variazione dei colori quindi sono altre piante che si possono usare tranquillissimamente e quelle sono anche piante che in un terrazzo volendo possiamo farle crescere l'olivo per esempio sui terrazzi è molto 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 usato sicuramente gli agrifogli come abbiamo detto prima e poi possiamo anche volendo ricorrere lì io direi solo per i più ardimentosi ok perché qua è un discorso un po' diverso anche la tantissimo vituperata vita del canada in realtà di autunno soprattutto da autunno ha un fogliame che diventa di un rosso carico che è di una meraviglia incredibile e anche lei fa le bacche quindi in realtà possiamo giocare in quello il problema viceversa si possono creare i bersò si può fare arrampicare sui gratici sui muri veramente ripaga in quei magari dieci giorni di fogliame rosso carico meraviglioso il fatto che durante il resto della stagione non è una pianta particolarmente appariscente anche in questo caso magari va un po' contenuta perché è una pianta comunque considerata invasiva quindi infestante non è autotona quindi tende insomma se gli lasciamo un po' troppo spazio tende un po' a prendere piede ecco quello sicuramente un po' come l'edra ecco lo stesso discorso si sa proprio l'edra sicuramente molto bella e di impatto sui muri dei palazzi ma anche un po' dannosa allora richiede attenzione quello sì quello sicuramente si possono far crescere anche su dei grattici metallici tenendoli distanziati dai muri in questo modo si evita di poi dover intervenire per le manutenzioni sui muri per le scrossare e sono sicuramente più facili da manutenere da questo punto di vista nel caso soprattutto appunto di edera o di vite del canadà per esempio il lupolo il gelsomino quello anche il semplice il falso gelsomino in realtà rimanendo verde comunque riesce sempre a fare anche lui da quinta essere colorato sono tutte piante che questi effetti sui muri non ve li danno sia quindi il nudiflorum che altri quindi non hanno queste problematiche il nudiflorum come anche molte rose sarmentose non sono dei veri proprio arrampicanti un filo aiutati ed aiutati esatto il filo esatto perché bisogna mettergli un filo per farli crescere perché sennò tendono più che altro a portarsi lì dipende anche come uno gestisce il giardino molte belle sono le siepi magari miste dove ogni tanto qualcuno si intromette nella siepe e allora magari si ha questo ramo di gelsomino d'inverno che si appoggia e che quando le altre sono spogli lui dà la nota di colore e viceversa scompare si può giocare si può sperimentare per avere il prossimo anno un giardino colorato anche d'inverno devo piantare queste piante all'inizio della primavera? allora sì si può fare sicuramente all'inizio di primavera con l'attenzione che poi se viene un'estate molto calda bisogna stare un po' attenti magari con l'irrigazione tutto lì poi è ovvio che se noi le mettiamo in autunno il primo anno non daranno mai grandi risultati infatti parliamo del prossimo inverno proprio per sì sicuramente facendolo in primavera per far sì che la fase adulta della pianta poi possa anche esatto per lo meno se non la fase adulta diciamo una fase già un pochino più sviluppata sicuramente mettendoli a primavera e standoci un pochino attenti appunto con l'irrigazione si arriva già quindi standoci attenti cosa vuol dire? che non hanno bisogno di tanta acqua? dipende dall'estate tutto lì è solo quello il problema perché durante la primavera è difficile che abbiano grandi bisogni può essere che invece magari in estate un pochino più di attenzione per l'idratazione perché essendo state appena piantate hanno un apparato certo molto labile esatto non ancora così sviluppato poi tutte queste piante che io ho citato sono tutte piante che poi in realtà a livello di attenzione praticamente sono molto robuste molto molto robuste l'agrifoglio è indistruttibile esatto l'edera ci vuole una bomba atomica per farla fuori ma comunque anche molte come il nudiflorum il calicantri tante di quelle di cui io ho parlato sono tutte piante che in realtà una volta messe in giardino tendenzialmente non hanno bisogno altra pianta carina da usare sicuramente in inverno è l'erica per esempio anche questo oramai ne fanno di tantissime tipologie con molti colori è una pianta molto bella si possono creare proprio delle aiuole proprio tipo boschetto in cui vengono utilizzate i ginepri che comunque sono piante allora anche sui ginepri è un mondo perché ce ne sono tantissimi possiamo scegliere dai ginepri che diventano anche abbastanza grandi celli aginepri che sono invece più striscianti loro fanno tantissime vacche quindi per esempio anche lì noi le abbiamo e spesso si può giocare anche sul colore degli aghi si va dai verdi a un verde un pochino quasi tendente al grigio si possono giocare quello il cotoneaster che è un'altra pianta di solito che si usa molto nelle bordure fa diciamo dei rami che non sono molto flessuosi sono abbastanza vigorosi ma ha un andamento prostrato quindi tende sempre ad essere abbastanza diciamo rasoterra delle foglie piccoline ma fa delle bellissime bacche rosse anche in questo caso molto colorate vengono usati per esempio per coprire magari quei punti dei giardini che non devono essere visibili perché creano poi una barriera abbastanza invalicabile abbastanza fitta ma anche quelli per esempio sono molto utilizzabili ed inverno comunque uno non perdono le foglie se non in casi di inverno veramente artici quindi molto rigidi e poi comunque anche loro colorano queste bacche quindi veramente il cotoneaster molto carino viene usato anche spesso banalmente sulle rampe dei box che sono sempre molto spoglie effettivamente messe invece che cadono verso il basso in realtà colorano la parete e anche lì insomma tornare a casa già con un colpo di rosso e verde è meglio che tornare a casa e pensare solo e trovare il grigio del cemento armato se va bene sono tutte cose che veramente si possono giocare utilizzare ecco bene ti ringrazio per questi consigli per avere un giardino colorato anche anche d'inverno magari non è uno non ci pensa immediatamente ma invece è sicuramente una buona strategia per godersi anche in queste stagioni il nostro giardino il nostro prato e il nostro terrazzo e grazie ancora Luca alla prossima puntata di niente grazie a voi grazie a tutti